Ciao, la novità letteraria che ti presento è un romanzo al limite della sopravvivenza che ti farà venire i brividi sulla schiena. Un uomo nelle nere profondità della baia del Mississippi scorge il profilo di un aereo con nove corpi in cabina, gli occhi vuoti e le braccia protese verso un gelido abbraccio. Che fine ha fatto il fantomatico decimo passeggero? Quali oscure macchinazioni cela la sua scomparsa? Dolente viandante del mondo da sempre braccato dalla perdita e dalla colpa, deve tornare a fuggire, inseguendo la libertà e il ricordo di una donna per sempre irraggiungibile. Cormac McCarthy ritorna con il suo romanzo più atteso e ci stupisce e conquista con un'opera di disperata bellezza e apicale bravura. La trama del libro Il passeggero di Cormac McCarthy, edito da Einaudi, è la seguente. Durante una missione di recupero al largo della costa del Mississippi, Bobby Western vede quel che non avrebbe dovuto vedere, un jet star apparentemente intatto adagiato sul fondale e, in cabina, chiome fluttuanti, bocche aperte e occhi vuoti, nove corpi senza vita. Da dove viene quell'aereo? Che fine ha fatto la scatola nera? E che ne è stato della decima persona sulla lista passeggeri? Queste le domande a cui Bobby, perseguitato da due emissari governativi e con un'aria da missionari mormoni, non sa dare risposta. Capisce allora di dover scomparire. Del resto a fuggire ci è abituato. Da tanto tempo è inseguito dai sensi di colpa nei confronti del mondo e di lei, Alicia, l'amore del suo cuore, la rovina della sua anima. Alicia Wester, sua sorella. Mente matematica sopraffina ed esperta mondiale di violini cremonesi, donna bellissima e perciò più difficile da perdere, perché la bellezza e il potere di suscitare un dolore inaccessibile ad altre tragedie, anche Alicia, come Bobby, ha guardato dove non doveva guardare, nel cuore delle tenebre. Visitata sin da bambina dalle corti, una cozzaglia di allucinazioni da vaudeville capeggiate da un piccolo focomelico scurile chiamato il Kid, e afflitta da un amore che offende, Alicia ha provato a opporre l'ordine del numero al caos della vita ma non ce l'ha fatta perché il certe cose un numero non ce l'hanno. Ora cosa resta a Bobby, se non la fuga? Via da New Orleans, Knoxville e la baia petrolifera della Florida, da Bettole, Bagnarole e Topaie. Un mondo popolato di reietti, ubriaconi e reduci dall'amorevole trans debut sia il killer di Blatte Borman al dendi dissacrante Sheddan ma brulicante di vita e inventiva. Via da tutto quel rumore, via dalle oscure macchinazioni del potere e dai peccati ereditati come da quelli bramati, verso una nuda bicocca dall'altra parte dell'oceano, verso un posto senza compagnia né legge né letteratura, dove non c'è altra realtà del ricordo e la fisica si fonde nella metafisica. Perché questo siamo noi, 10% biologia e 90% mormorio notturno. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.